Non sto tanto bene perché non sto mangiando, sono due giorni, sono sopra della fame, ma realmente io sono disposto anche a dormire qui per terra per fare cambiare tutto questo perché in un paese civile come l'Italia non si possono guadagnare 200 euro al mese, in un centro dove noi per 12 anni abbiamo dato il nostro cuore. Sciopero della fame per i lavoratori del Cala di Restinco che dopo numerose manifestazioni hanno predisposto un presidio permanente nei pressi della prefettura, iniziando in queste ore anche lo sciopero della fame per chiedere il ripristino delle ore lavorative che possa riportare i loro stipendi ad un livello minimo di sopravvivenza. Siamo arrivati a un punto di non ritorno, nel senso che qua non se ne può più. Qua ci sono famiglie veramente che stanno pure divorziando perché ormai ci si dedica anche ogni giorno con le mogli, perché non ce la facciamo più a portare avanti, a pagare il mutuo, a pagare la luce, a portare avanti i figli. Una situazione gravissima veramente, si stenta quasi a credere e in questo momento è un responsabile che è il governo. Noi spesso ci troviamo a fare delle vertenze che ci vedono di fronte i privati, qui invece c'è un problema e che è il Ministero che non risolve il problema di questi lavoratori. Non si può arrivare a far programmare lo sciopero della fame ai lavoratori, siamo veramente molto preoccupati. Grazie. 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 Grazie.